Ciao a tutti e benvenuti a questo consueto appuntamento di approfondimento di alcuni punti. Oggi parlerò di una ricorrenza, il 7 e l'8 luglio del 1962, 57 anni fa, si verificarono a Torino dei grossi scontri tra Forza dell'Undine e operai. Bene, per capire questa ricorrenza, per capire cosa è successo, non è neanche un attimo capire il clima che c'era in quel periodo. Ebbene, qui credo a Torino, faccio presente solo che nel decennio del 1960-69 i flussi migratori in Trara a Torino raggiunsero il massimo, questi flussi, e furono circa 102 mila immigrati italiani, quindi una marea di persone che arrivava a Torino in quel periodo. Il fatto che l'immigrazione aumentò la popolazione della città di Torino, portandola da 721 mila 795 abitanti del 1951 a ben un milione 184 mila 223 del 1971. Ebbene, chi si fa un giro, un attimo per anche YouTube dove sono descritti, sono riportate alcune condizioni in cui vivevano in quel periodo le persone immigrate dal sud soprattutto, può rendersi conto di qual era la situazione, dove veniva ricordato sempre uno dei documenti di anni fa, visto in televisione, dove gli immigrati che arrivavano dal sud, e lavoravano in Fiat, non avevano posto in cui dormire e dormivano sulle bigliotterie della stazione di Porta Susa, un po' come succede adesso con gli immigranti extracomunitari. Ebbene, queste persone venivano chiamate dal boom economico soprattutto dato dalla Fiat e venivano a lavorare al nord, andavano a lavorare al nord. Ci fu anche due anni fa un dibattito a riguardo dell'anniversario della rivolta di Piazza Statuto. Perché ci fu questa rivolta? Questa rivolta scoppiò a seguito di un… in quel periodo si stava trattando per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metallomeccanici, quindi era compresa tutta il grosso degli lavoratori che erano impegnati in Fiat. A un certo punto due sigle sindacali, la WILM e il SIDA, un sindacato giallo nato alcuni anni prima da una sessione con la CISL, firmò separatamente l'accordo. In giornata, dopo quella ferma, folti gruppi di operai si radunarono per protestare sotto la sede della WILM nella centrale Piazza Statuto, ma furono quasi subito attaccati e dispersi dalla polizia, con la motivazione che una parte dei manifestanti stesse compiendo graviati di violenza. Gli incidenti proseguirono comunque sino alla sera e ripreso anche nei giorni seguenti. In tutto non furono fermate oltre mille persone, per lo più lavoratori immigrati, 36 dei quali furono poi processate per direttissima e condannate a pene varianti dai tre mesi all'anno e mezzo. La mattina del 7 luglio i maggiori stabilimenti industriali della città si fermarono e gli operai incolleriti si concentrarono di fronte alla sede della WILM proprio in Piazza Statuto. Ne nascono degli scontri con la polizia che durano per tre giorni, con il risultato di più di un migliaio di feriti e quasi un centinaio di arrestati. cosa c'è da rilevare di strano? Che dalle fila del Partito Comunista che voleva rappresentare la classe operaia e anche dei sinistri, in quel caso di Guaderni Rossi, si alzarono unanime coro di condanna dei fatti di Piazza Statuto giudicati con una squallida degenerazione di una manifestazione di protesta. L'unità del 9 luglio definisce la rivolta come tentativi, teppisti e provocatori e i manifestanti elementi incontrollati e desasperati, piccoli gruppi di irresponsabili, giovani scalmanati, anarchici, internazionalisti. Bene, questo perché bisogna capire il clima di qual era la situazione di quel periodo e il clima venne descritto molto bene in un articolo apparso sul quindicinale allora del fondatore del Partito Comunista d'Italia del 1921, Amadeo Bordiga. Il quindicinale si chiamava Il Programma Comunista del titolo emblematico Evviva i teppisti. Ebbene, chi come lui ha potuto vedere il Vienio Rosso, ha potuto vedere la rivoluzione in Russia, poteva giudicare meglio quella situazione. Estrapolo alcuni punti, sapendo che comunque quella situazione non potrà più tornare perché non ci sono più i grossi sacrifici degli anni 70, 69, 70, fino agli anni 80, il boom economico della ripresa economica dopo la distruzione della guerra mondiale non c'è più e non tornerà più. Oggi la classe, diciamo lavoratrice, ma è la classe che oggi non ha più garanzie, non ha più… anche il lavoro è diventato sempre più precario. Si lavora sempre meno persone e sempre a periodi più brevi. Sembra di essere arrivati agli inizi del 1900 quando all'esterno delle fabbriche c'era il caporalato che diceva tu vai a lavorare, tu no e via dicendo. Ma cosa dice? Leggerò alcuni brani e vi invito ad andare a vedere quell'articolo che è molto importante, detta alcune cose, detta che la situazione crea scoppi di rabbia e quando ci sono questi scoppi di rabbia proletari, quelli che si definiscono i partiti che dovevano rappresentarli, abbandona i propri iscritti, dicendoli teppisti, non rinforzando le rivendicazioni dei lavoratori da una parte, dall'altra che le altre fabbriche uscirono spontanei in solidarietà e diedero una mano ai lavoratori della Fiat. Quindi ci fu un'unione dei lavoratori in quel periodo, in quel momento. Un'unione che è sempre stata fondamento dei partiti comunisti, ma anche delle organizzazioni sindacali che dal dopoguerra in poi uscite dal sindacato fascista, hanno diviso i lavoratori in settori, in categorie, in fabbriche quindi più spezzettati e più divisi. Cosa dice, leggo alcuni brani, dico, non è mai avvenuto nella storia del movimento operaio, nemmeno nei periodi più vile opportunismo dei partiti e sindacati, che gli operai che insorgono contro la soprafazione del capitale e dei suoi lachè e che, ricorrendo all'arma dello sciopero, non dimentichano che questa è appunto un'arma, un'arma di guerra sociale, fossero bollati come teppisti e come provocatori da quelli che sconciamente pretendono di rappresentarli. Torino proletaria, che i partiti del più sconcio tradimento, e qui si riferisce al PCI, PSI, tutti quelli che parlano nel nome degli operai, si sono precipitati a battezzare teppista con servilismo di fronte ai quali i vecchi arnesi del riformismo diventano rispettabili, ha fatto né più né meno quello che una tradizione non imbelle insegnava. Redestarsi dal lungo sonno del paternalismo valettiano, ricordo che Valletta governava la Fiat in quel periodo, e dal costituzionalismo e legalismo sindacale e politico dei partiti, della convivenza pocifica, della democrazia, e invocata la via dello sciopero, essa è balzata d'un salto, al di sopra di un trentennio di pacifismo sociale, ha ridato sangue e vita al motto marxista, che lo sciopero è la scuola di guerra del proletariato, non una festa padronale o una celebrazione patriotica. E poi si arriva al punto della violenza, dice violenza, certo, non era stata violenza la firma da parte di due sconce organizzazioni, ricordo la FIM e SIDA, cosiddette operaie, di un contratto separato forcaiolo, non è e non continua a essere violenza lo sfruttamento al quale sono sottoposte le masse che affluiscono nel grande centro industriale, dalle campagne del sud, tallonate da una miseria che lo stamburamento degli aiuti alle aree depresse e delle casse del mezzogiorno rende ancora più amara, per un salario miserabile e duramente sudato, da consumare nelle bindonville, nel neocapitalismo, fa il disprezzo venato di razzismo dei borghesi locali, torinesi o milanesi, evoluti e di lì incipriati figli di papà. Qui sembra un piccolo spacco di quello che succede oggi con l'emigrazione dai paesi dell'Africa o dell'Est. È il vano tentativo nella quale la stampa e i partiti della Costellazione Democratica si lanciano concordi di separare come due fatti diversi e contrastanti lo sciopero della Fiat. E quindi li separi in cosa? A chi gli incidenti di Piazza Sattuto? Nel primo si dimende, quindi lo sciopero pacifico, rispettoso delle regole, in frac, manifestazione di coscienza democratica e di rispetto delle leggi e il secondo, cioè quello delle violenze, sconciamente piazzaiolo, secondo la versione ufficiale proclamata da tutti, e tipista. I proletari torinesi e il loro vanto si sono mossi dal primo fino all'ultimo movimento su un terreno di guerra di classe davanti alla fabbrica e fuori, lungi dal mendicare il riconoscimento del diritto di sciopero. Se lo sono preso, questo diritto, con la forza, e lo hanno affermato come dovere. I cronisti, i giornalisti, arrivati a buoni e ultimi, come sempre, poi c'errebbe da dire molto sui cronisti, e d'altronde i consapevoli delle leggi del mestiere si sono sbizzarriti a dipingere i fatti di Piazza Sattuto. Nessuno, però, ha descritto l'atmosfera di tempesta davanti ai cancelli della fiata, nessuno ha parlato degli operai di altre fabbriche che accorrevano per solidarietà istintiva, non solo ad aiutare i fratelli finalmente in lotta, non solo a rincorarli, ma a premere perché entrassero in lotta e poi non molassero, né dello schieramento dei proletari decisi a picchettare gli stabilimenti, gettando intorno ad essi una rete di corpi umani attraverso la quale nessun colletto duro potesse filtrare. Nessuno ha fotografato l'immagine in carne ed ossa della divisione delle società in classe, inconciliabili nei viali alberati del paradiso neocapitalistico di Valletta. Una marea di proletari, coi pugni serati da una parte, le forze dell'ordine e i pompieri sindacali, gli uni e le altre, impotenti dall'altra. Non c'era il dialogo, non c'era la pacifica discussione di problemi di categoria, c'era una battaglia muta e imperiosa, non c'era divisione tra proletari interessati all'avvertenza dei stranei, erano proletari senza etichetta, di dipendenza da nessun padrone, con la sola e gloriosa qualifica di sfruttati in lotta contro ogni sfruttatore. Per la morale che la convenzione borghese erano certo dei tipisti, chi si rifiuta di subire servilmenti sopprusi di una società che è una provocazione continua e per la definizione di rappresentante della feccia. Non fu così. La furia di lagone, strade nelle piazze, e com'era nella sua logica di fatto sociale e creativo, trascinò con sé i proletari di tutte le categorie, gli sfruttati di tutte le denominazioni, gli schiavi del miracolo economico, i beffati, gli irrisi della convivenza pacifica. Per un'inconsapevole ironia, essi ci concentrarono in piazza Satuto, certo involontariamente, scelcelo a teatro della Lollocollera, un campo di battaglia intitolato alla prima costituzione borghese italiana, madre della più decente, quella che essi avrebbero dovuto e dovrebbero rispettare con affetto filiale, secondo le direttive della CGL, con unità e disciplina democratica. Queste erano le parole del comunicato della Camera Confederale del 7 luglio del 62, dopo gli avvenimenti. E qui a sentire la stampa borghese sarebbe avvenuto qualcosa come l'ipocrisia, il giorno del giudizio, il diluvio universale, santa ipocrisia borghese. E qui fa un parallelo tra le lotte della borghesia quando era lei in lotta per la liberazione nazionale e per il predominio della società borghese con quello che era successo nel 62. E dice santa ipocrisia borghese. I popolani delle cinque giornate ricordo le cinque giornate di Milano e del risorgimento il 18 e 22 marzo del 48 sradicarono ben altro che cubetti di porfido e gli equivalenti allora dei paletti segnalaci di oggi. Infransero ben altro che vetti e cristallo, usarono ben altro che temperini e bastoni, fecero le baricate per l'ideologia corrente trattandosi nella battaglia risoltasi a favore della nazione e della nascente borghesia italiana. Furono degli eroi. Invece i proprietari torinesi che si battono contro il nemico nazionale di classe sono dei tepisti. Essi che troppo miti, troppo generosi, non tentarono nemmeno di erigere una baricata. Nel 48 nazionale e borghese la teppa è salutata, blandita e coccolata finché non fa comodo e salvo le successive repressioni. Nel 62 regressioni, scusate. Nel 62 proletario diviene logicamente il mostro che leva la sua testa immonda. E giù fiumi di rettordica scandalizzata. I più non erano metallmeccanici ma se i proletari non mentalurgici non soffrissero sotto lo stesso gioco degli altri la manifestazione doveva essere semplicemente sindacale come se esistesse lotta sindacale che non fosse lotta politica. C'erano in mezzo dei pregiudicati come se l'enorme maggioranza dei sfruttati non avesse conosciuto la giustizia almeno per un furto di galline o come se l'enorme maggioranza dei leggendati osservatori borghesi e se la felina pulita o almeno la coscienza netta. E qui pensiamo ai nostri politici in galera per corruzione e per altro questi erano acqua di rosa. Erano giovani si diceva come se non toccasse appunto ai giovani di dare ai vecchi le braccia muscolose il cuore intatto anche essi più che essi ancora più non hanno. Sotto sotto corre pure una vena spezzante di razzismo nuovo modello i soliti terroni figurarsi non sanno nemmeno fare la loro firma e il processo è tanto se non mostrato il sapere il loro nome e il luogo di nascita come chi dicesse i soliti negri che poi nella stampa d'alto livello diventano gli incolti ineducati quello che non hanno avuto la fortuna di andare a scuola e non ancora strati dalla cultura ufficiale e dal galateo gli uomini dalla fronte bassa e dal coltello a seramanico sembra di leggere oggi quello che succede oggi continua l'articolo dopo la retorica i processi per direttissima e le condanne dei proletari non solo i cosiddetti rappresentanti operai non hanno difeso ma hanno ignobilmente sconfessato e attenzione a questo perché la borghesia l'ideologia borghese vuole sempre trovare dietro un colpevole chi li ha organizzati infatti continua l'articolista in quel quindicenale dice erano ecco tutto dei proletari autentici dei senza riserve chi li aveva organizzati si erano organizzati da sé la coscienza borghese non potrà ammettere mai che gli incolti i diseredati gli straccioni sappiano difendersi e sappiano attaccare una loro strategia istintiva fatta di una solidarietà che lo stesso sistema di produzione borghese contro voglia e contro ogni desiderio crea e cementa in loro non posso accettare l'idea che come per un improvviso fenomeno di liberazione di una forza compressa che trova la strada per rompere quel fenomeno sul quale i grandi militanti rivoluzionali costruirono non soltanto gigantesche teorie quell'assalto al cielo che Marx esaltò e che è la grande forza della storia e che è la stessa cosa della rivoluzione per i borghesi i proletari possono soltanto muoversi come gregge se il loro movimento vi dice a una logica a un metodo persino ad una strategia bisogna che ci sia in mezzo a loro qualcuno il qualcuno che per gli idealisti borghesi può essere soltanto l'organizzatore uscito dalle scuole di partito il provocatore formato dall'alta accademia della polizia magari il gesuita travestito e qui fa un parallelo con la rivoluzione francese e dice chi aveva organizzato per restare negli esempi della storia borghese i popolani e le popolane del 14 luglio 1789 parliamo della rivoluzione francese rivoluzione borghese chi per passare agli esempi nostri aveva organizzato i proletari del quartiere Viborg o di Kronstadt del 1905 e del febbraio del 1917 o la gloriosa canaglia della comune parigina o berlinese nessuno li aveva organizzati appunto perciò si erano organizzati da sé nessuno era disposto a proteggerci perciò si difesero nessuno ordinava di attaccare ordinarono a se stessi di farlo c'erano al contrario coloro che come si vanta la famosa federazione giovanile torinese del PSI descritta come estremista tentavano di porre ordine invitando la calma mentre la polizia caricava di picchiare erano come sempre in un secolo e più di battaglie di classe si sono trattati i cani da guardia del padrone e finisce c'erano provocatori in mezzo a loro certo ma questo provocatore si chiama società borghese il capitale e i suoi sgherri la vendita quotidiana di forza lavoro l'estorsione quotidiana di lavoro non pagato l'inganno della libertà di lavoro e della libertà di cittadino la beffa dell'uguaglianza per tutti la menzogna della democrazia e delle riforme la realtà del miracolo economico che è per i proletari sinonimo di lacrime sudore e sangue tutto questo gli aspetti giovani prima e vecchi lietamente poi meridionali e piemontesi tutti assieme finisco qui perché altrimenti rischio di tediarli come volevo sottoporre l'attenzione come quella lucidità di quel grande rivoluzionario che fu Amadea Bordiga descrive questa situazione situazione che causa la compressione che ci viene data in continuazione di questa società del lavoro precario i soldi che non bastano sempre più stress all'interno del mondo del lavoro lo possiamo vedere anche da come si si reagisce sempre più la gente sembra quasi impazzita non ragionare più non c'è più tolleranza nella vita comune e questo dà l'immagine di una società di una vita senza senso che per il profitto stiamo facendo basta vedere i cambiamenti climatici l'aumento della temperatura l'autodistruzione che ci sta avviando questo sistema non tanto perché butta la cartina per terra vero quella è maleducazione ma non può essere le migliaia di tonnellate di plastica create dall'industria della plastica imposta a noi che stiamo facendo morire il mare i pesci lì non siamo quel pevo che noi è il sistema che ci sta portando lentamente alla distruzione vi consiglio di leggere con attenzione e di riflettere un attimo su quell'episodio io termino dicendo che agosto andrò anch'io in ferie farò un po' di pausa e quindi grazie per essere sempre così numerosi per darmi stimoli in continuazione di ricerche e di continuare questa trasmissione ciao a tutti e arrivederci a settembre a